Accompagnare i giovani nella fase della loro crescita permettendo la realizzazione del proprio percorso di vita è il fine a cui tende il volume L'Arte di Essere Umani, promosso dall'Ufficio di Pastorale Scolastica della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia. Ne abbiamo parlato con il curatore Don Pasquale Rubini, parroco della Cattedrale di Molfetta, Marilena Pastore. I processi formativi delle giovani generazioni in abito scolastico richiedono l'interazione tra soggetti attraverso un percorso cooperativo capace di creare un incontro tra le differenze, di riconsiderare il valore dell'essere umano, di ascoltare le suggestioni dei vissuti antropologici del mondo contemporaneo. Occorre ripensare una cultura dell'educazione indicando ai docenti un possibile raccordo tra ricerca scientifica, competenze professionali, motivazioni individuali e responsabilità collettive per attuare una scuola realmente inclusiva. È quella a cui tende come obiettivo il volume L'Arte di Essere Umani, esito del progetto didattico per i docenti di ordine e grado delle province di Bari e Bat, promosso dall'ufficio di pastorale scolastica della diocesi di Molfetta Ruvo, Giovinazzo Terlizzi, in collaborazione con il Consiglio regionale di Puglia. Uno strumento per accompagnare i giovani nella fase della loro crescita, permettendo la realizzazione del proprio percorso di vita, ma al contempo il miglioramento delle condizioni di umanità. Vuole essere uno strumento utile ai docenti e non solo. Un progetto che ha impegnato docenti di ogni ordine e grado, con una grande finalità, quello di suscitare delle domande antropologiche, tese soprattutto a fare in modo che i docenti si mettessero in un certo senso in discussione nelle loro conoscenze, perché tutto questo processo potesse attivare delle capacità educative, formative dei docenti stessi, i quali sono i primi protagonisti del mondo della scuola.